Musica 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 Ci troviamo a Eboli per giocare contro la Battivagliese Siamo E' la prima partita di ritorno Speriamo che il risultato sia diverso dall'andata Abbiamo perso il piano in casa Quest'oggi Anche se sono 97 sono in due giocatori regionali Spero quindi di entrare magari Un secondo tempo Di giocare una buona partita da aiutare la squadra a vincere Sempre e solo può saltare il cicciano Speriamo Gli domani E' il giro E' il giro Li Bologno 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 Buongiorno, buongiorno, è partuto, è partuto, dai che fa? Allora Mario, vedi che schizza, la parola è meglio, metti la, metti la! Un secondo un secondo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!